Buongiorno a tutte e a tutti, siamo qui col professore Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata all'Università di Bari. Vi diamo appuntamento a questo nuovo dialogo di Pandora Rivista. Il professore, appunto, oltre all'attività accademica, ha avuto modo di contribuire nel dibattito pubblico attraverso diverse importanti pubblicazioni. Oggi discuteremo del volume Centri e periferie, edito dalla Terza, ma possiamo ricordare appunto una recente pubblicazione sull'autonomia differenziata, sempre edito dalla Terza, e per Donzelli un volume sul futuro del PNRR, che è un tema sicuramente rilevante per il Paese. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do il benvenuto e possiamo partire con la sigla. Partendo dal volume Centri e periferie, un tema che sta allo sfondo del saggio è quello della visione della politica che sorregge le politiche di coesione. Viene rimarcato all'interno del saggio come vi sia un pensiero legato al mercato, all'economia finanziaria che ricorre nel sorreggere il futuro delle politiche. Quindi in questo senso è possibile affermare che la politica abbia, tra virgolette, indietreggiato su molti temi in virtù di un ruolo del mercato come organizzatore, anche rispetto alla redistribuzione, al senso delle politiche di coesione. Come possiamo leggere il ruolo della politica alla luce dell'esperienza degli scorsi decenni, visto che appunto il saggio si riferisce anche a alcuni tratti storici che hanno caratterizzato le politiche di coesione in Italia e in Europa? Il libro è un libro sull'Europa, come cambia la geografia dell'Europa e quindi la posizione delle diverse città o delle diverse regioni nel quadro europeo. È impossibile per noi capire le città e le regioni italiane o francese e tedesche, guardando solo ai confini nazionali dobbiamo guardare ai confini europei. La posizione delle diverse regioni nel corso degli ultimi 30 anni ha visto dei fenomeni di polarizzazione, cioè alcuni luoghi hanno avuto uno sviluppo decisamente più forte rispetto agli altri. E il libro prova a spiegare che questo non dipende, come si racconta un po' superficialmente, dalle attitudini locali, da quello che i governi locali fanno, ma da grandi forze dell'economia e della politica internazionale. Pensiamo agli effetti della caduta della cortina di ferro sulle convenienze localizzative nei paesi dell'est. La posizione quindi delle diverse città e regioni è sempre profondamente influenzata dal loro contesto e quindi dalle politiche che influiscono su questo contesto. Se ne possono fare di meno, se ne possono fare di più a seconda di quello che si preferisce, ma certamente le politiche pubbliche sono sempre decisive nel condizionare gli sviluppi dei diversi territori. Pensiamo alle infrastrutture fisiche, alla diversa sorte di Copenaghen e di Malmo, adesso che sono collegate da un ponte, pensiamo alle politiche che si fanno sulle persone, sia sull'inclusione sociale, sull'istruzione, pensiamo anche alle complessive politiche monetarie di cambio che influenzano i diversi territori. E dunque, piaccia o meno, le politiche pubbliche sono assolutamente decisive nel plasmare le sorti dei luoghi. Che cos'è successo? È successo che mentre per decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era stato un vasto consenso sulla necessità di mettere in atto politiche che avessero anche l'obiettivo di evitare questa forte polarizzazione, negli ultimi trent'anni, un po' in tutta Europa, a livello comunitario, ma soprattutto a livello nazionale, queste politiche si sono fatte molto più gracili. E quindi la mancanza delle politiche ha contribuito a questi fenomeni di polarizzazione. Noi siamo abituati a guardare l'Italia, ma sono evidenti anche in altri Stati membri, a cominciare dall'Inghilterra, che è il caso più eclatante. Ecco, nel volume si fa più volte riferimento, ed è una questione di rimente, quella della divergenza collegata alle disparità territoriali. Perché questo tema, questo concetto è così importante nel disegno delle politiche pubbliche? Perché che ci dice la teoria economica sulla convergenza o divergenza, tradotto in italiano? Che ci dice la teoria economica? Le condizioni delle diverse regioni in Europa e negli Stati Uniti tendono spontaneamente a diventare più simili o no? Non ha una risposta conclusiva, ci sono delle forze economiche di mercato, soprattutto gli investimenti dalle aree più forti a quelle più deboli, che aiutano questa convergenza, ma ci sono, e sono molto rilevanti, delle forze che danno più vantaggi a chi è già più forte. Noi le chiamiamo tecnicamente economie di agglomerazione, piove sul bagnato, chi è più forte si sviluppa di più? Le analisi empiriche che sono condotte nel libro mostrano che in Europa, così come negli Stati Uniti, negli ultimi trent'anni queste forze sono state prevalenti. E dunque che cosa succede? Che piove sul bagnato, e cioè che le realtà già più sviluppate hanno naturalmente un vantaggio sulle altre, e quindi tendono a rafforzarsi, si parla di cumulatività dello sviluppo. È un concetto che nella storia del pensiero economico è molto presente, soprattutto negli anni 50, ci sono stati dei grandissimi economisti che ce l'hanno raccontato. Questo è molto importante perché può piacere o meno una concentrazione delle attività economiche, ma questo è un dato di fatto. La novità degli ultimi decenni in Europa è che l'economia si dà la mano con la demografia, e cioè mentre prima nelle regioni più deboli restava comunque molta popolazione, anche se c'erano tanti migranti, adesso la popolazione diminuisce. Quindi una città più forte attira persone, questo arrivo di persone la rafforza, parallelamente una realtà più debole perde persone, questa partenza di persone ne indebolisce. E questo è preoccupante perché questi fenomeni di concentrazione di cui stiamo parlando rischiano di autorafforzarsi nel tempo. Ecco, restando sul ruolo dei mercati nell'economia all'interno dei centri urbani, diversi esperti anche internazionali hanno sottolineato come soprattutto negli ultimi decenni ci sono stati dei fenomeni di cosiddetta finanziarizzazione dell'economia, della società, dello sviluppo urbano, persino alcuni dicono dello Stato, rispetto alle pratiche che riguardano questi meccanismi di policy making. La domanda che volevo porle è se secondo lei, come appunto appena detto, l'economia svolge un ruolo dirimente nello sviluppo economico dei centri, se secondo lei la finanziarizzazione e la capacità di questi centri di interpretare la finanziarizzazione è un fattore chiave anche per determinare lo sviluppo futuro di questi centri, vale a dire che la capacità dei governi locali, dei governi territoriali di in qualche modo sostenere e far sì che forze dell'economia sviluppino pratiche finanziarizzate in settori ad esempio dell'informatica, dell'immobiliare, di alcuni settori produttivi trinanti, secondo lei può essere appunto qualcosa di cruciale per lo sviluppo futuro. Io direi così che c'è un elemento di finanziarizzazione, cioè di prevalenza di quello che riguarda il capitale monetario rispetto al capitale fisico, questo è molto rilevante all'interno delle città negli sviluppi prettamente urbanistici, che è un tema che io nel libro affronto relativamente poco. Più in generale direi che c'è sicuramente una tendenza in base alla quale le dinamiche di mercato diventano più forti rispetto alla capacità del settore pubblico di condizionarle. C'è una idea che si è rafforzata in questi decenni, non solo in Italia ma in tutta Europa, che bisogna lasciar fare il più possibile al mercato e quindi ritirare l'intervento pubblico rispetto a quello che rivedevamo negli anni 60 e 70. Ci sono anche fattori di bilancio, del bilancio pubblico che ha meno risorse per fare questo. Si può pensarla come si crede, c'è chiaramente un confronto politico su questo, personalmente vedo con una certa preoccupazione queste dinamiche. Quello che nel libro si sottolinea è che quanto più lasci fare al mercato, tanto più queste forze agglomerative tendono ad afforzarsi, cioè chi vuole investire oggi in Italia ha molti più motivi per farlo a Milano che a Catanzaro, ma se tutti investono a Milano il vantaggio di Milano su Catanzaro tende a rafforzarsi e quindi i catanzaresi andranno a vivere a Milano e questo lo rafforzerà ancora. Le politiche pubbliche possono avere degli obiettivi che vanno al di là della redditività del capitale privato investito. Se bisogna investire capitale privato, questo va naturalmente dove i rendimenti sono maggiori e molto spesso questo coincide con i luoghi dove le attività economiche sono già più forti. Rispetto allo sviluppo delle regioni urbane, prima citava il caso inglese, ma nel volume sono trattati molti altri casi esemplari. Rispetto a questo, una seconda questione di lettura importante riguarda la trappola dello sviluppo intermedio, che riguarda appunto processi di industrializzazione delle regioni. Secondo lei questo fattore quanto è rilevante nel programmare, ad esempio, l'allocazione dei fondi strutturali nelle politiche di coesione o su vasta scala anche nel pensare processi di allargamento che sono più volte richiamati, come per esempio l'allargamento a est, ma è una questione essenziale anche se pensiamo futuri allargamenti dell'Unione Europea che sono in discussione in questi anni. Dunque nel libro si raccontano due storie. La prima storia è che intitolerei il ventunesimo secolo e il secolo delle città, nel senso che abbiamo una forte evidenza che ci dice che le economie urbane crescono di più delle economie non urbane. Perché succede questo? Perché le attività industriali che sono localizzabili più liberamente sul territorio sono diventate meno importanti. in Europa sono diventati più importanti i servizi. Molti servizi si disperdono sul territorio, pensiamo ai negozi, ma molti servizi si concentrano fortemente. Le telecomunicazioni, l'informatica, tutto quello che ha a che fare col digitale, la comunicazione, la televisione, l'entertainment, come si dice in inglese, sono fortemente basati su alcune città, c'è una gerarchia di città. Perché succede questo? Perché stare a Londra a fare finanza conviene, perché c'è un mercato del lavoro adatto, ci sono le condizioni adatte e i servizi finanziari da Londra si possono vendere su tutto il territorio. Quindi c'è un primo tema, la terzializzazione dell'economia europea in larga misura coincide con un rafforzamento dell'urbanizzazione. Questo è molto importante, non tutte le città hanno successo, c'è un tema delle aree non urbane, i gire gialli francesi sono la dimostrazione plastica del disagio dei cittadini che vivono in aree non urbane. Il secondo racconto che c'è nel libro è questo delle regioni nella trappola dello sviluppo intermedio, detto in soldoni che cosa significa? Significa che prima, prima cos'è? Prima nel ventesimo secolo in Europa c'erano un nord e un sud, cioè una parte più centrale, più sviluppata, negli anni Ottanta si parlò della banana blu, cioè di quest'area che connetteva Londra e a Milano e tutto quello che c'era di mezzo, il nord, la parte più sviluppata, le aree più periferiche erano il sud. Con il ventunesimo secolo questo quadro è cambiato principalmente a causa della caduta della cortina di ferro, nel senso che al nord e al sud si è aggiunto l'est, cioè un'area molto, abbiamo molto sottostimato l'effetto dell'allargamento che è stato importantissimo, un'area diversa sia dal nord, non così tecnologicamente avanzato, ma anche dal vecchio sud europeo, perché l'est è molto più conveniente e poi geograficamente sta molto più vicino al nord, Praga è molto più vicino a Monaco di Baviera di quanto non lo sia Siviglia. E quindi questo che cosa sta portando? Sta portando a una forma di polarizzazione un po' inconsueta, nel senso che, molto generalizzando, chi va bene? Le città più sviluppate e più forti, Stoccolma, Copenaghen, Francoforte, Parigi, Milano. Chi va anche bene? Queste aree dell'est che sono diventate molto attrattive per investimenti internazionali, soprattutto in connessione a quello che io nel libro chiamo il nuovo cuore manifatturiero europeo. È caduto la cortina di ferro, si sono rimessi insieme, per incredibile che questo possa sembrare economicamente, il vecchio impero Guglielmino e il vecchio impero Asburgico. Chi rimane in mezzo? Chi ha difficoltà? Hanno difficoltà quelle aree che sono meno tecnologicamente avanzate e meno forti delle grandi capitali, delle grandi città, ma meno convenienti rispetto alle localizzazioni all'est. Per capirci, in Italia ce ne sono di due tipi. C'è il sud, che è un'area che non è mai arrivata a un sufficiente livello di sviluppo, ma che adesso attira pochi investimenti perché c'è ogni ragione di farli in Slovacchia o in Polonia, piuttosto che in Campania e in Sicilia. Ma anche le Marche o il Piemonte, cioè aree nelle quali c'era stato un forte sviluppo industriale, con la globalizzazione, lo spostamento in Asia di una parte rilevante del tessuto produttivo, le calzature nelle Marche, l'automobile in Piemonte, il loro apparato produttivo ha fatto dei passi indietro, ma non sono riusciti a sviluppare nuove specializzazioni. Quello che caratterizza queste regioni nella trappola dello sviluppo intermedio è che è veramente difficile fare qualcosa, perché non si può usare né la leva del prezzo, perché a destra sono molto più convenienti, e usare la leva dell'innovazione è molto difficile, perché sa, inseguire le grandi città innovative tedesche non è facile. Sicuramente. Ecco, rispetto alle leve appunto della politica di coesione e di ciò che il pubblico può fare, una questione centrale è sicuramente quella dell'amministrazione pubblica e della capacità amministrativa, un tema che viene trattato anche nel volume Centri e Periferie verso la fine, ma che è sicuramente uno dei focus del volume che citavo prima, riuscire al PNRR a rilanciare l'Italia, che è uno dei suoi ultimi, e che tratta il tema della capacità degli enti locali e delle amministrazioni anche regionali di promuovere politiche di coesione. Ecco, lei nel volume Centri e Periferie rileva come talvolta si è stata presente una tendenza in qualche modo autarchica da parte degli enti locali nel gestire le risorse che di fatto indebolisce quella cooperazione multilivello, multisettoriale, multilettoriale che dovrebbe essere invece una leva formidabile specialmente sui grandi piani come può essere appunto il PNRR. E recentemente rispetto al PNRR lei l'ha definito uno strumento che possa far uscire l'Italia dal lungo tunnel di austerity e presentismo che ha caratterizzato il paese negli ultimi decenni. Quindi la domanda che volevo porle a questo punto è, secondo lei, la necessità di promuovere, mettere a terra, implementare il piano, quanto è rilevante? Cioè, al di là dei risultati che produrrà, essa è fondamentale per impostare un nuovo lavoro nel campo delle politiche pubbliche italiane? Allora, nel libro si dice una cosa con forza, che le politiche territoriali, le politiche per i territori e quindi che dovrebbero avere anche l'obiettivo quello di non far accrescere eccessivamente le polarizzazioni e gli squilibri, queste politiche sono fondamentali le politiche generali che un paese si dà, cioè politiche che non hanno formalmente un obiettivo di coesione territoriale, ma hanno un impatto molto forte. Lì che parliamo? Delle politiche sanitarie, delle politiche dell'istruzione, delle politiche dei trasporti, cioè di politiche che non hanno la coesione esplicitamente nelle loro finalità, ma che hanno un effetto molto forte. Le politiche direttamente mirate alla coesione territoriale sono di una certa importanza, ma non sono decisive, non si riesce, questa è l'esperienza italiana, a fare politiche speciali di successo se le politiche normali vanno in direzione contraria. Nel caso italiano un esempio lampante è quello del sistema universitario. Chi deve fare queste politiche è molto importante, perché alcune vanno fatte a scala europea, altre vanno fatte a scala nazionale, regionale e poi locale. L'esperienza mi porterebbe a esprimere l'opinione che non c'è una chiave magica, cioè portare tutto al centro o decentrare troppo sono a mio avviso entrambe scelte sbagliate, ci vuole un buon equilibrio che è diverso nei diversi paesi europei. Infine bisogna essere bravi a fare le politiche, scopriamo l'acqua calda naturalmente. Quello che spesso accade è che nei territori più deboli le capacità sono più deboli, sia per dinamiche politico-culturali, non c'è dubbio, ma anche perché le esigenze da soddisfare sono molte di più e quindi è più difficile guardare molto lontano. Insomma le politiche pubbliche non sono una passeggiata, questo accompagna forse la cattiva opinione che spesso ne abbiamo, ma non ci deve portare a renderci, bisogna fare ogni sforzo affinché, bisogna non coltivare l'illusione che basti stanziare dei soldi o schioccare le dita perché le cose cambino, ma bisogna fare ogni sforzo per costruire un intervento pubblico compatibile con le risorse relativamente scarse che abbiamo che sia il più efficace possibile. Rispetto alle politiche territoriali, un dibattito che forse è più presente nel mondo accademico che in quello pubblico dei luoghi in cui anche discute la politica riguarda la territorializzazione delle politiche, quindi la capacità delle politiche pubbliche di rendersi geograficamente evidenti. Questo lo si vede spesso anche nella promozione di avvisi, bandi, concorsi nazionali che scopriamo spesso poi premiare appunto in territori già investiti di risorse, come diceva prima, piove già sul bagnato e le risorse continuano a moltiplicarsi. Quindi dal suo punto di vista rispetto al tema dell'amministrazione pubblica, quali meccanismi potrebbero invece dare una lettura più territorializzata appunto delle politiche, ovvero rispetto ad esempio alle competenze degli enti o rispetto a una gestione diversa della spesa, quali pratiche direi possono fare la differenza in questo senso? Allora ci sono due aspetti, uno sono le politiche che per loro natura mandano i soldi sui territori e questi da qualche parte arrivano, pensiamo alla costruzione di un tratto ferroviario o la costruzione di un porto. È molto importante capire l'insieme e il quadro di tutte queste politiche, un piano dei trasporti, una strategia dei porti, perché naturalmente bisogna che la locazione territoriale di queste risorse sia coerente con gli obiettivi che i governi si danno. Quello che è molto importante, soprattutto nel caso italiano, è che c'è scarsa trasparenza su questo, anche perché le nostre politiche sono diventate molto più di breve termine, quindi non abbiamo un arco lungo di tempo su cui guardare. Il PNRR è un ottimo esempio di un tentativo di allungare lo sguardo. Naturalmente qui bisogna rifuggire dagli estremi, cioè di far tutto a Milano perché Milano è già più avanti e l'investimento rende di più, o di non fare niente a Milano perché dobbiamo recuperare la coesione territoriale. Bisogna fare un equilibrio, in questo equilibrio i parlamenti sono molto importanti, perché i parlamenti sono composti da rappresentanti dei diversi territori dei paesi e quindi devono essere una camera di compensazione. Queste sono politiche abbastanza chiare. Ci sono altre politiche che invece hanno un effetto territoriale più o meno forte e che è meno intuitivo. Pensiamo agli 80 Euro del governo Renzi, quelle erano una misura per i dipendenti a medio-basso reddito, ma per come è stata costruita era una misura che in Italia premiava più le regioni più forti di quelle più deboli perché il numero di beneficiari era molto più alto al nord che al sud. Pensiamo al reddito di cittadinanza, per il reddito di cittadinanza vale il contrario, è una misura contro la povertà, quindi non ha un indirizzo territoriale, ma è molto più incisiva del mezzogiorno perché nel mezzogiorno sono più poveri. Le politiche di welfare, le politiche pensionistiche hanno questa componente, il fatto che in Italia a lungo non ci siano state politiche per la famiglia o per i bambini a lungo penalizzato il mezzogiorno, per esempio, le pensioni di invalidità favorivano il mezzogiorno. Anche qui non si tratta di prendere una posizione a priori a favore o contro, ma si tratta di capire l'impatto territoriale delle politiche non territoriali, che è un impatto molto forte. Facciamo un piccolo esempio conclusivo, sostenere le pluriclassi sembra una politica di tipo pedagogico, invece è una politica territorialmente molto importante perché le pluriclassi ci sono nei comuni più piccoli d'Italia, delle aree interne, quindi se io faccio una buona politica delle pluriclassi sto facendo un intervento estremamente importante a favore degli studenti che stanno nei comuni più isolati d'Italia. Grazie al professor Gianfranco Viesti per l'opportunità di aver discusso con noi delle politiche territoriali di coesione e per aver brevemente tracciato i contenuti del saggio centri e periferie. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata dei dialoghi di Pandora di Vista. Grazie a voi per l'invito e per l'opportunità, complimenti e molti auguri a Pandora per le sue attività cartacee digitali e visuali. Grazie per aver guardato questo video, se volete approfondire questo ed altri temi oltre ad iscrivervi al canale potete abbonarvi alla versione cartacea di Pandora Rivista. Tra uscite l'anno con un argomento diverso ogni volta per capire più in profondità le grandi trasformazioni del nostro tempo. Grazie a tutti.